Lo sport è una realtà fondamentale per i giovani e il CSI di Milano naturalmente non poteva che essere presente in questa cordata educativa. Presente con tanto entusiasmo e con molta convinzione. Lo sport insegna che fare squadra è il modo per vincere davvero. Quindi questa mi sembra un'esperienza veramente molto molto bella, di desiderio profondo di fare squadra tra tutte queste grandi realtà educative. Lo sport metterà a servizio la sua peculiarità ricordando per esempio un dato interessante che dice che oggi nello sport gli adolescenti non stanno abbandonando l'attività sportiva ma i dati della nostra diocesi dicono per esempio che addirittura c'è un piccolo incremento proprio della fascia degli adolescenti. Lo dico perché questo per esempio è un segnale bello di speranza che dice come comunque c'è tanta speranza e tanto lavoro da fare con i ragazzi. Questa cordata educativa credo che proprio aiuterà ad andare molto ma molto in alto.